This is a story that we could take back someday Our lonely glory that we could get back Salve a tutti ragazzi, sono Kianigmark e questo è un nuovo video su Kadi Shugwad Italiano Noi quest'oggi siamo qui con Gianmarco, saluta bestia Hi guys, welcome back, hi guys New commentary of Rome 2 Total War Come fai te, barbone di merda E come potete vedere abbiamo fatto una cosa abbastanza particolare Un 1 vs 1 su Rome E diciamo che abbiamo già iniziato a battaglia, tanto stiamo qua così Con la facecam tutte e due Io vedo già il suo esercito da prima Fuck E io gioco con i suebbi e lui gioca con i romani E perché questa cosa, vedete voi questa cosa da pazzi che non c'ha senso Anche perché le nostre facce occupano mezzo schermo Perché oggi il canale compie un anno Oggi è il 3 aprile Perché lui mette il bersegger? Perché? Oggi il canale compie un anno Compie un anno, no gli anni, uno solo ce n'ha E quindi abbiamo pensato di fare qualcosa di carino Ora non sappiamo se il video sarà caricato il giorno stesso Non penso, è abbastanza difficile perché lo stiamo registrando adesso Probabilmente verrà caricato domani, lo vedrete il 4 aprile Se riusciamo tanto meglio E vogliamo fare questa cosa particolare Non è niente di impegnativo una partita così per divertirci Io ho un esercito di maestri con la spada e berser Che lui c'ha un esercito di merda invece Lo potete vedere con i cani Robita stupida Vedete che possiamo anche farli correre Tu mi stai già facendo correre, ma sei una bestia sei Porelli mi fai stancare Io mi sto facendo vedere la mappa dall'alto Mi sta girando la testa un casino L'esercito è una cagata L'esercito è una cagata perché Teoricamente dovrei vincere io Per il corpo a corpo Però siccome questo gioco è il contrario Adesso lo attaccheremo così Così Succede B È fuggato Il combattimento come avverrà Allora vi dico una cosa Dico una cosa Si va bene va bene Lui sta già Si sta già parlando il culo perché perderà Si sta già parlando il culo Eh si il gioco è buggato Allora aspetta Aspetta fammi parlare Parla 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 Praticamente Praticamente Il mio esercito è formato da una prima linea Messo tutti i legionari corazzati Vedete Che resistono molto alle frecce Ma tanto in questa partita non si usano le frecce Quindi va un culo Adesso ho detto senza frecce e senza cavalleria È la regola Giusto Esatto Poi abbiamo messi cani da guerra Quattro unità di guardie pretoriane Poi sui lati Vabbè sempre due guardie pretoriane E i gladiatori lanceri su tutti i due fianchi Poi dietro abbiamo i gladiatori Poi il generale E poi i soci a stati Che sono unità così tanto ferma Avanzavano 300 fondi E l'esercito di match invece è forte È molto forte Questo va detto È molto forte Infatti ho la paura di perdere E può essere che perdo Perché io a questo gioco Cioè io e Mark in generale A questo gioco ci abbiamo giocato Non tanzi poco Giusto la campagna avremmo fatto Sì abbiamo fatto un cavolo L'abbiamo fatto No più che altro sì Più che altro il problema è che A differenza di Joggle C'è un abisto Almeno per me c'è un abisto Cioè non sono capace Cioè giusto riesco a fare Qualche tattichetta Tipo adesso Però c'è Nulla di particolare Ma ne manco Ma ne manco Bene Io ti sto facendo vedere Stiamo parlando Vaffanculo Stiamo parlando A random così Almeno vi faccio vedere i cani Che sono dei bei mastini Credo Non lo so Se non sono mastini Diteglielo nei commenti Speriamo Perché se non sono dei soldi buttati E poi mi incazzo Con quello che vende i cani Quindi Allora Io direi che possiamo iniziare a correre Con le mie unità Caricate Guarda Vai vai Guarda che belli Guarda che belli Tei tuoi cani maledetti Sei un cane Usi cani Maledetto Sai vedere i soldati da vicino Eh li sto facendo vedere Posso vedere la carica Vai Però tu mi carichi i cani Aspetta Dov'è la mappa O è Oh no i cani Guarda che cosa figa Che viene fuori Ti ho ammazzato i cani Maledetto Eh vabbè Non ci sono più i cani Adesso attiriamogli a tutti Le abilità E ora ti fanno il culo Eh lo so Ma Lui già fa tanto facile Guarda qua Una delle nostre unità si è scatenata Una delle nostre unità si è scatenata Grande I pretoriani Ma ho perso Non ho perso Unità scatenata Ho perso Sconfida Che animali Che animali I perso Magheggi del Koenig Magheggi del Koenig I suoi magheggi I suoi magheggi I suoi magheggi Sta poi raggando adesso I magheggi Guarda giusti Pure il peritoriano mi è andato in fuga I pretoriani mi sono andati in fuga I pretoriani in fuga Ti rendi conto Eh Guardate il delirio No mi stanno andando in fuga a unità Oh 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 buoni No 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 i berserk Non li tengo più sotto controllo Mi sa che vince Fanculo Guarda sta parlando tutto Sto parlando tutto sul centro Sto perdendo Maledetto Eh Sul centro Sul centro Stanno scappando dal campo di battaglia No guarda come vince Guarda come vince No perdo Porca miseria berserk Tornate in combattimento Che andate a farvi le passeggiate Guarda come la vince sto bastardo Non la vinco Non la vinco Ma come faccio a vince Ho perso tutto Io non c'ho più niente Mi è rimasto solo un cazzo Ah non è più un cazzo C'è i berserk che fanno strage A me mi sono rimasto solo due pretoriani Ho buttato lì Sull'altro fianco pure Ma che cazzo vinci guarda Hai vinto Hai vinto Guarda la barra C'è 200 per te Vaffanculo hai vinto Romani di merda Adesso avete visto come magheggia lui Che sta perdendo Adesso vince Non sappiamo giocare a sto gioco Cazzo No no È vero Mi è morto il generale È vero Sto vincendo Sto detto Oddio Oh mio dio Ma secondo me la chat La chat ti arriva in ritardo Hai stravinto Fai schifo fai Fai schifo Ma che cazzo Cristi dio Cristi dio Crisi Cosa diamo che sta succedendo I berserk sono fuori controllo Qui c'è sotto qualche bug In quattro ancora verde Qui qui in mezzo c'è qualche All'inizio stavo perdendo Ma c'è 141 pretoriani ancora C'è cento Conti pretoriani C'hai ancora Guardali Si ma Sta perdendo Sta perdendo Lui I pretoriani sono sopravvissuti Ma che dici Perché ho attivato In realtà la decima E presenza E tu queste abilità non le hai Perché tu sei un barbaro Tu sei un barbaro Non le hai Sì i miei barbaro Stanno ancora lì Stanno combattendo i miei berserk Intanto In 28 contro tutto un esercito 27 Guarda che besti che sono i berserk Un berserker contro Ancora che vive Ah unità distrutta Cazzo Finalmente Noi sono degli altri Sto vedendo Non lo so Guarda se non perde Guarda ma io Mi sono Vabbè è impossibile Quelli ce la fanno a far fare Eh Tu gioco sai Mai dire mai Su questo gioco Il delirio in questa partita Su questo gioco Mai dire mai Ma dove vanno Dove corrono Ah no Hanno finito Gli è finita la carica da pazzi Sono morto Finita Ah meno male Ti stanno mandando in fuoco un'unità Aspetta Aspetta Gli tiro l'abilità No Stavo per tirare gli l'abilità Ah Dio la vittoria nemica È la prima volta Che Gianmarco mi batte Vediamo un po' È la prima volta Una volta La prima volta E poi su Rom 2 Un gioco proprio in attesa Beh io ce ne avevo di più scherati però Ma perché Cos'è che te hanno fatto 1880 Non capisco cos'è che ha fatto I cosi Non capisco Chi è che ha fatto Così tanti danni Capito Sono troppo più forti L'unità romana Tu me ne hai messo 1200 Mi sa che è Berserk Che costano troppo Rispetto a quello che hanno fatto 1200 Eh sì Eh A parte A parte che costano Vogliamo fare una rivincita Vabbè No 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 Basta Era la partita per il canale Adesso io sto sulla schermata qua Mi metto sulla schermata principale Che è più figa Eccoci qua Va bene Quindi io direi che per oggi è tutto Abbiamo fatto questa partita così per farla Ha quittato? Certo che ho quittato Ho perso Sono un rage quitter Io quitto Vabbè Un rage quitter Ovvio Quindi ne approfittiamo del momento Per ringraziare Perché siamo riti quasi a 1300 iscritti Siamo a 1284 Mi pare adesso Sì Una roba grossa E Quindi Noi è un anno Ma siamo fatto YouTube Il primo video che abbiamo fatto Che ho fatto io È stato uno su Shogun Quindi è un anno esatto Dal primo video di Shogun Che abbiamo fatto Che ho fatto io almeno E abbiamo chiuso l'anno Con il rom Questo 2 contro 2 Contro year Era contro year È vero Era una partita contro Uno dei year Adesso non mi ricordo neanche il nome Tra parentesi il clan Non si è sciolto Mi sembra come clan Sì non esiste più Boh vabbè Non ci interessa E E per il resto Niente Adesso stiamo qua facendo i deficienti Sulla facecam Vabbè Ne approfittiamo per ricordarvi Che c'è anche la pagina Facebook Se volete seguirci anche lì Ne approfittiamo per ricordarvi Io non lo so che altro che posso ricordarvi Cioè poi abbiamo i nostri canali personali Che magari qualcosa la carichiamo Ah una cosa E dimmi Una cosa E Per chi insomma Visto che ultimamente Non stiamo caricando Ah sì Per vari impegni Per vari impegni personali Quindi tra poco ricominceremo Come un tempo a caricare Quest'estate Più di Caricheremo di più dell'altra estate Quindi Speriamo insomma che Andrà tutto bene Come a prima Diciamo Bene Adesso lui mi deve mandare tutto il video Su che è registrato Perché ovviamente noi non ci stiamo vedendo in faccia Stiamo solo parlando con i due deficienti Quindi sarà un bel casino montare tutto Io spero che il video vi sia piaciuto Io spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un like Commentate Fate quello che vi pare E ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Bella Saluta Gianmarco Bestia Saluta Bella 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 Bella